Ciao a tutti ragazzi e benvenuti, a questo nuovo video di oggi siamo tornati, siamo un minecraftita ottava stagione Ragazzoli che cosa andiamo a fare oggi? Dopo il magazzino, i mille piani che sono cambiati e stanno ancora cambiando per il magazzino Questa per ora è la versione finale, con delle porte di qua che accedono al sistema di smistamento che stiamo costruendo a questo punto Che cosa? E dico che cosa andiamo a fare oggi? Beh oggi andiamo a sistemare il passaggio segreto che ci porterà in due zone molto interessanti del nostro mondo Come al solito non c'è un cazzo di legno, ma questo va più che bene come al solito, mi serviranno invece stone brick Parecchi stone brick, quindi ne facciamo un altro po' 62, uno stack va presto che bene, poi ci serviranno dei cosi, dei quadri, dei quadri perché era il passaggio segreto Ci servirà ovviamente anche una porta, quindi non basterà questo legno, lo dovremo andare a prendere altro Perché di lana ne abbiamo parecchia, è tantissima, ma gli stick, cioè non abbiamo, oh ma siamo sempre alla ricerca di legno Dobbiamo fare, prossimo episodio, farm di legno necessariamente, non col wither Eh no per forza senza wither ozzo, però magari la facciamo, facciamo una bella accetta con efficiency e tutto il resto E creiamo un sistema che ci dà legno, perché sennò davvero è improbabile sta cosa Allora, signori, che serve? Porta, stick Scusate raga l'interruzione, ma mi è arrivato il time di suere nuovo, quindi sono dovuto andare a prenderlo Eh, che cazzo spettacolare, è arrivato lunedì, vi giuro Io non penso, cioè, sono stata la persona più felice del mondo, non me l'aspettavo, ma chi cazzo Spettavo, ve l'ho detto lunedì L'hanno consegnato a mia nonna, spettacolo, spettacolo Allora, facciamoci un paio di cosi, ma se ce ne vorranno sicuramente di più Anche perché poi il legno non è che ci serve a nient'altro, quindi alla fine fa un culo E io ti butto giù, vabbè, quattro per ora, poi ne andremo a fare altri Che cosa dobbiamo fare oggi? Ho delle scale, se non erro qua, perché mi serviranno appunto delle scale Per ora con, mi serve un accetto anche Che parecchi di voi si, mi hanno detto, frimo, guarda hai passato tipo dieci episodi dentro la città È vero, avete ragione, ma io devo crearmi la città nella montagna È fondamentale che io stia qua dentro, perché poi la parte, cioè, stasera sarà incentrata Tutta dentro la montagna, l'esplorazione, la facciamo ogni tanto Ma la parte, cioè, le parti migliori, poi andremo a fare i campi, sono d'accordo Però comunque calcolate che la marte maggiore verrà passata qua dentro Spero l'idea vi piaccia, perché a me però ragazzi, poi se mi rompo le scatole Lo facciamo da un'altra parte Qui mettiamo il separè Che significa che ci sarà la parte di, cioè, che qui non In teoria, dicevo, una persona normale diceva Perché è finito il mondo, cioè è finita la stanza Vaffanculo invece, no, continua la stanza Continua dall'altra parte Infatti bisogna adesso scavare qua sotto E poi comunque sappiate che ci sarà un altro piano più basso Questo serve per andare al laboratorio Il piano più basso ancora per l'approdo delle barche Magari l'approdo delle barche lo facciamo Non lo so, passiamo da qua o meno Perché effettivamente l'approdo delle barche serve Vabbè, non lo so, vedremo Facciamo uno ufficiale e uno non ufficiale Non lo so ancora bene come strutturarla Sta cosa, devo essere sincero Però intanto per ora devo spianare qua e poi fare la scala Allora, per ora ci basiamo su una roba del genere Tac, tac, chiuso, praticamente tu entri E stai qua Sto, sto, sto E sto Entro qua sotto, è più basso ovviamente rispetto a quanto ci aspettavamo Perché comunque è alto 3 Quegli altri sono alti 5 Beh, facci un po' l'abitudine al fatto che questo sia un po' più basso Ma per il semplice fatto che dobbiamo andare a pari con un livello di là È comunque anche carino che ci sia un livello intermedio bypassabile Perché poi ci sarà comunque un'altra scalinata E questo livello non si vedrà A questo punto iniziamo a mettere i quadrozi In questo modo Ok, right, va bene Ci sta Altri 3 quadri ho potuto fare non di più Per il semplice fatto che non mi bastavano E adesso dobbiamo vedere se effettivamente Cioè se basta tutto ciò Tac, tac Perché mi arrivano i messaggi? Non mi devono arrivare i messaggi adesso, porca miseria Sto registrando, abbiate pietà Cavolo Ok, me ne mancano 1, 2, 3, 4 Però l'idea è che Ok, questo non funziona Devo aprire E poi rimettere questo Ed entrare Ok, perfetto Qui si entra e si esce Easy Una volta che ci saranno tutti i quadri Dice, vabbè Stealth Non finisce la parete Invece col cazzo c'è il passaggio segreto dietro Che fa figo, cazzo Che fa figo Bene, passaggio segreto finito E siamo tutti felici e contenti Già abbiamo messo tipo 30 secondi a far sta roba Adesso che cosa facciamo? Carino, mi piace Andrà fatto il pavimento Ok, va bene Non è un problema di certo il pavimento Io pensavo di fare comunque in passaggio Ancora un po' più lunghetto Di qua Allargarlo un po' Ma mica per niente Per il semplice fatto Che è scomodo È troppo stretto Ok, qui possiamo allargare in verità Magari allargiamo una parte e dall'altra Ci rimane un po' più Scorrevole la cosa Questi secondo me possiamo anche toglierli A sto punto Dato che dovevano delimitare Sì, ok Dovevano delimitare il tutto Però Magari Non lo so in verità come farlo Attualmente Potremmo lasciare una cosa del genere Arriva e entra Si ferma qua Tu sali E siamo tutti felici e contenti Adesso direi di andare a fare l'approdo Per le barche Quindi andiamo a dormire Ci trasferiamo di sotto E iniziamo a scavare Ok ragazzuoli Non ci ha fatto dormire Perché sta diventando giorno E quindi ho sprecato un po' di roba Ma niente di particolarmente grave Ok, ci siamo L'approdo sarà fatto qui Ma è tanto più alto Capite? Quanto cazzo è più alto? Perché Calcolate che noi comunque Dovremmo farci entrare dell'acqua Ok? Quindi l'idea è quella di farlo largo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vabbè, 6 è perfetto E dovremo scavare Ok, va bene Ma l'idea è che proprio l'acqua ci deve essere Deve essere partecipe L'acqua a tutto questo piano E io lo farei anche un po' più basso Voglio fare una cosa figa Mi metto a scavare Ok, questo è quanto Il soffitto è alto Qui abbiamo già Siamo sotto il livello dell'acqua Quindi perfetto Che cosa dovremmo fare a questo punto? L'idea è proprio quella di andare a Dopo una certa Dobbiamo scavare tantissimo Tipo qua per ora In verità è anche un po' presto Secondo me Per il semplice fatto che voglio che il canale sia grande È proprio un canale Deve essere Tu entri C'è sto canale enorme E voglio continuare a scavarlo Scavarlo Non so Per qualche altro blocco Poi allargare E avere la piattaforma Per scendere E tutto il resto Che vuoi mettere Che figata Allora ragazzuoli Ho fatto anche un pezzo di banchina Certo A questo non ci sarà Però lo utilizzo per ora Per passare Perché voglio andare a fare Già La parte dell'acqua Quindi devo Metterlo l'acqua Poi scaverò un altro po' Ho già scavato qua fuori Voglio farlo abbastanza profondo Il canale Non so Non so Una cosa ancora Come fare A salire di sopra Perché Voglio farla molto grande Sta zona Ci sarà sacco da scavare Ma veramente tanto Finirò un piccone Già lo vedo Ma va bene lo stesso E ci voglio Per salire Perché poi Sapete com'è il fatto Ti serve un posto Per salire all'interno Quello ancora non è collegato E ci vorrà per collegarlo Perché guardate la differenza Oddio no In verità Siamo quasi arrivati D'altezza E insomma Siamo davvero quasi arrivati Potremmo alzare magari di due o tre blocchi Ecco sì due o tre blocchi Sicuramente alzeremo Perché deve essere proprio grande Il canale deve essere Veramente veramente grande E poi basta Però non facciamo nient'altro Stop Ci fermiamo E passiamo alla parte di collegamento Non so bene Ma voglio fare Che non sia collegato Alla zona quella di Alla zona principale Cioè alla scala principale Si deve collegare Da un'altra parte necessariamente Deve essere tipo un ingresso E non mi va Utilizzare la scala principale Quindi magari potremmo fare Partire Non di certo da qua Che è la zona più alta Del nostro posto Che cazzo Andiamo a quella più bassa E fare tipo Qui c'è la fonderia No Qui non c'è possibilità di farmi un cazzo Perché c'è la fonderia Dove vai O vado di là Dall'altra parte E vengo su da lì Potrebbe essere un'idea Giuro non vedo l'ora Di avere lo smistamento attivo Ma porca miseria Quanto sarà Wow Ok A questo punto ragazzuoli Iniziamo semplicemente A mettere acqua Come se non ci fossero domani L'unica cosa è mettere Per ora Le cose di qua Tanto qua non sponerà nessuno Perché ci sarà dell'acqua Inizio a mettere il todo E ragazzuoli Ci vediamo appena ho fatto Perché poi dovremo scavare Anche tanto Colleghiamo Siamo pronti Se Uno Dos Tres Se sei aperto Il canale Bene ok Abbiamo il canale per ora aperto Ma dobbiamo scavare tanto Per il semplice fatto che non mi va di avere Un canale basso Così a me Cioè voglio fare una cosa figa E si deve veramente notare Quindi inizieremo A fare tutte queste cose A scavare Per ora alto Tre Poi lo ha Forse anche quattro Vediamo Bene Ora ditemi pure Che non gasa Sta cosa qua Il canale Cioè qua Prende sei dentro la montagna Col canale Tranquillamente Poi Perché le barche non si usano Cioè faremo una Vigliero Noi magari fuori Ma Cioè utilizzi una barchetta E poi col fatto che c'è l'oceano Qua ti sta comodo Poter entrare con una barca Se mai no Qualcuno ovesse Venirmi a trovare Viene qua Entra dentro Con la barca E poi può salire tranquillamente Cioè neanche lo sbatti Di dover salire Barca E entri dentro Cioè sei dentro la città Che poi in teoria è Una Non è una città Mi scrivono Ma questo è purtroppo Per il server Ragazzuoli È È così È così È così È Quindi entri dentro Sei dentro la città Dentro la Poi casa Città Questa è una città casa Praticamente Perché diventerà talmente grande Che come casa È impossibile Però Chiaramente È tutto concentrato Qua dentro Quindi sarà effettivamente Una città casa Allora raga Oltre alla stanza Degli iscritti Che sono in procinto Di fare Ho preso Nove cartelli Per fare Un attimo una cosa Questa parete Che attualmente è inutile Ma ci passiamo Un sacco di volte Verrà adibita Per segnare Come bacheca Tutto quello Che c'è da finire Nel corso Del Che c'è da finire Semplicemente Qui Nel nostro mondo E guardate Che le cose sono tante C'è da fare Un sacco di cose La prima Perché se no Me le scordo La prima è lo smistamento Smistamento Magazzino Smistamento Magazzino Esatto Perché è fondamentale Che Finire sta cosa Allora Quello che ho scritto È stato La biblioteca Che dobbiamo finire Assolutamente Le luci a casa Perché corrispondono Qualche mob Dobbiamo sistemare Lo sistema Di smistamento Del magazzino La prod Delle barche E la stanza Della macchina volante Va bene ragazzuoli Pezzo che per questo video All'incirca Possa essere tutto Abbiamo fatto I cartelli Questi sono fondamentali Ci aiuteranno Secondo me parecchio Nel corso di questa serie Perché parecchie cose Andrò a mettere lì Poi faremo una bacheca Più carina È provvisoria quella Mettiamo Fare bacheca Dobbiamo finire Queste cose Che alcune Finirò off camera Ovviamente Toglierò i vari cartelli Poi faremo la bacheca Diciamo la sala degli iscritti In cui voi Mi Consiglierete Delle cose da fare E poi Io nel corso del tempo Le farò Ragazzuoli Penso che per questo video Dovete saluto Ricazzo attenzione La visione Lasciatevi mi piace Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se avete fatto Di condividere i video Su facebook E far più scena Per persone Mi raccomando Passatevi tutti i link In descrizione Facebook Instagram E tele Grazie Ciao Ciao a tutti ragazzi